E rieccoci qui con questo wall tour Sperando che non sia l'ultima missione Eh si, guarda che torre Voglio arrivare lì sopra Ecco un altro punto di interesse del nostro giro turistico Il centro trasmissioni Dall'ì partono i comunicati Diamo un'occhiata al vento Vai entro subito Sono carico, sono carico Quando ci rivedremo il Lord Regente sarà morto Altrimenti, beh è stato un piacere servirti Prendo una pozza Ok Mmmh, che si facciaccano sicuro Mortaggi topi o come così va Mi sa che è meglio Scommetto scenderà per colazione No Il Lord Regente Lavora e consuma i passi Nella sua stanza flintata Mangiala su, sul tetti Non gli viene male Disattivo tutto Disattivato ora Vediamo un po' se c'è qualcuno in giro No Facciamo così Facciamo Caracca Caracca Porco Dinci Come c'è Lo fiocino, lo fiocino Lo fiocino, vai Ah ok Sto guardando l'altra parte Perciò adesso lo scuzzo Allegramente Codin ci sono troppi Devo cercare un piano alternativo Devo cercare un piano alternativo Mannaggia la miseria Tipo se mi arampico qui sopra Che c'è Che c'è Che c'è l'ho ok perfetto ora faccio proprio il ninja porcazzuzza ci stanno i robotoni allora lì ce ne stanno delle qua ce ne stanno qua è pieno zeppo le guardie porcazzuzza devo arrivare lì senza essere visto e qua la vedo abbastanza complicata come cosa attenzione personale della Dumbled Tower rimanete sul posto fino al nuovo ordine ah se passo di là se passo di là potrei anche riuscirci scusate ma ci sto pensando perché voglio fare il ninja se mi teletrasporto qua mi teletrasporto di là ci sarà un botto di ovili ok ok allora forse ho capito allora vado qua ma arrampico qua ma arrampico là ma arrampico qua sopra forse che riesco toccolo qua sopra hai detto i topi oh dio ma arriva ma arriva quello lì speriamo che non mi scriviamo speriamo che non mi scriviamo Ok non mi ha sgamato Cazzarola Qua ce ne stanno due Che bel panorama vero? Questo posto mi era triste Per quale motivo? E' qui che l'assassino ha ucciso l'imperatrice Da allora tutto è cambiato in mezzo Certo è stato un giorno terribile Però eravamo già afflitti dalla peste Comunque cambiamo discorso Lascia che ti consori Andatevi Questi qua stanno a pagare qui Non mi sembra una buona idea Fa che non mi vede Se ne è andato Se ne è andato So troppi maledizione Quello mi vede E' andato E' andato Ho un'ansia terribile Tanto ammazzo questo Almeno c'è pro Ok uno Abbiamo fatto fuori Ansia Ansia Carò lì c'è pure una torre Mannaggia la miseria che si muove Allora vediamo un po' Muoviti Muoviti Su M Non mi vedi! Sto fermo eh! Oh non m'ha visto! Porco d'inci! Non m'ha visto! Voglio un fossato! Dice al diavolo! Da che cosa deve difendersi? Da un esercito? L'acqua di un fossato attira nel... E' un po' qui c'è! Ok è tranquillo lui! E' tranquillo il tipo! Dai dammi la mano! Chiudi la porta! Ok! Ok! Y'amu vota! Ok! 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 Grazie per la visione!